La semplice formulazione della legge di gravitazione universale basta a descrivere precisamente ciò che ci circonda? Newton stesso avvertiva dei punti deboli nella propria teoria. Il primo tra tutti era sicuramente quello riguardante l'azione a distanza di una forza. Com'è possibile che un corpo A influenzi il corpo B senza che ci sia un contatto diretto tra i due? Ad esempio, la forza che il Sole esercita sulla Terra si trasmette attraverso il vuoto del cosmo, e non necessita di una sostanza materiale che realizzi un contatto indiretto tra i due corpi. L'interazione gravitazionale è quindi dovuta a una forza, capace di agire a distanza e che tutti i corpi dotati di massa sono in grado di esercitare e subire. Questo pareva essere una caratteristica intrinseca della materia, riconducibile solamente ai due corpi coinvolti. Newton dichiarò le sue perplessità in merito e pensò che fosse un'assurdità così grande da non poter essere accettata da alcuno capace di pensiero competente, come scrisse in alcune sue lettere. Un altro aspetto della legge che era avvertito come punto debole è quello inerente al concetto di massa. La massa che compare nella legge di gravitazione universale esprime la caratteristica di attrarre a sé un corpo dotato di massa. È come se fosse la carica gravitazionale del corpo, per analogia tra il campo gravitazionale e quello elettrico. In questo caso viene definita come massa gravitazionale. Invece, la massa che compare nella seconda legge della dinamica, F uguale m per a, ci permette di calcolare il valore assunto dall'accelerazione di un corpo soggetto ad una forza. La massa qui rappresenta la resistenza che il corpo oppone all'azione di una forza, che è una caratteristica diversa dalla capacità attrattiva di cui si parlava prima. La massa che rappresenta questo concetto è definita massa inerziale. Riassumendo, le due masse esprimono due qualità fisiche del tutto differenti. Nella legge newtoniana di gravitazione universale, i due concetti di massa compaiono con un unico simbolo, m, ma assumono entrambe le caratteristiche citate della materia. Grazie a sofisticati esperimenti condotti nell'ultimo secolo, si sono potuti ricavare dei valori numerici dei due tipi di masse, che risultano essere identici a meno di una parte su mille miliardi, che è un limite della sensibilità degli strumenti utilizzati. C'è una ragione per cui i fisici sono autorizzati a rappresentare la massa gravitazionale di un corpo attraverso lo stesso parametro m che esprime la sua resistenza all'azione delle forze? A questa domanda Newton non sarebbe stato in grado di rispondere. Infatti la ragione si scopre nella relatività generale, che assume quell'uguaglianza come postulato basilare dal quale Albert Einstein ha sviluppato la sua nuova teoria. La fisica newtoniana concepisce lo spazio tridimensionale come statico ed infinito ed il tempo come entità unidimensionale e continua. Lo spazio e il tempo compaiono del tutto indipendenti l'uno dall'altro, indipendenti dagli oggetti materiali e dallo sviluppo degli eventi. Ma non è questa la realtà delle cose. Il fisico Albert Einstein teorizza una nuova concezione dello spazio e del tempo che viene espressa nella formulazione della relatività ristretta e successivamente inglobata nella relatività generale nel 1915. Le due entità diventano inscindibili e connesse l'una all'altra in una struttura chiamata spazio-tempo, caratterizzata da quattro dimensioni, tre spaziali e una temporale. Inoltre lo spazio e il tempo di Einstein risultano essere concetti relativi al sistema di riferimento adottato e quindi non sono più considerati come entità assolute. Il principio di equivalenza e il principio di relatività generale furono alla base della teoria della gravitazione di Einstein. Il principio di equivalenza stabilisce che, stando all'interno di un sistema chiuso, non è possibile distinguere se il sistema si è accelerato da una forza esterna al sistema o appartenente ad un campo gravitazionale. Il principio di relatività generale, invece, afferma che tutte le leggi fisiche sono applicabili allo stesso modo non solo ai sistemi di riferimento inerziali, come stabilito nel principio di relatività ristretta, ma anche a sistemi di riferimento non inerziali e quindi, per esempio, a sistemi che si muovono di moto accelerato. Albert Einstein rivoluziona il concetto di forza gravitazionale con la formulazione della relatività generale, da lui chiamata la più bella delle teorie. In questa, Einstein concepisce un campo gravitazionale responsabile delle interazioni tra corpi e coincide con lo spazio-tempo stesso. Questa semplice affermazione è una folgorazione, un lampo di genio che stravolgerà la concezione scientifica valida fino a quel momento. L'universo, ora, è diventato un'entità elastica. Mi spiego meglio. Il Sole curva lo spazio intorno a sé e la Terra continua a girare attorno ad esso, non perché è attirata da una forza, ma perché è costretta a percorrere uno spazio deformato dalla massa della stella, come se fosse un treno obbligato a muoversi su delle rotaie prestabilite. Secondo lo scienziato, ogni particella di materia si muove a velocità costante lungo una curva, chiamata geodetica, che in ogni istante può essere considerata una retta. Si può affermare che un corpo si muove nello spazio-tempo sempre lungo una geodetica, allo stesso modo in cui nella meccanica classica un corpo non sottoposto a forze si muove lungo una retta. Se la struttura dello spazio-tempo in quel punto è piatta, la geodetica sarà proprio una retta, altrimenti assumerà forme diverse. Quindi all'incurvarsi non è solamente lo spazio, ma anche il tempo. Einstein sostiene che il tempo passi più lentamente in presenza di un concentramento di massa e più velocemente in un punto in cui non vi sono corpi dotati di massa. Nel caso del pianeta Terra, più ci si allontana dalla superficie, più il tempo scorre velocemente. Il fenomeno è chiamato dilatazione temporale gravitazionale. Al giorno d'oggi abbiamo delle conferme sperimentali che riguardano questo fenomeno. Si è riscontrato che orologi atomici posti a bordo di un aereo e quindi più lontani dal pianeta sono leggermente più veloci rispetto agli orologi rimasti a Terra. Proprio a causa di questa differenza è necessario che gli orologi dei satelliti artificiali del GPS siano sottoposti costantemente ad opportune correzioni. È quindi grazie ad Albert Einstein che oggi possiamo usare Google Maps. Nulla è straneo alla forma dello spazio-tempo. Persino la traiettoria della luce segue le linee geodetiche descritte dalla presenza di grandi corpi massicci. La luce di una stella lontana dal sistema solare, quelle che gli antichi chiamavano stelle fisse, appare ai nostri occhi arrivare da un punto ben preciso dell'universo, ma è solamente un'illusione. Il punto in questione è dato dalla traiettoria finale che percorre la luce. Gli effetti del fenomeno della deflessione della luce vennero calcolati da Einstein in persona. La previsione della deflessione fu confermata empiricamente per la prima volta nel 1919 dalle osservazioni eseguite durante un'eclissi solare. Dopo l'annuncio ufficiale del 6 novembre 1919, avvenuto grazie ad una riunione congiunta della Royal Astronomical Society, il fisico Lorenz spedi un telegramma di conferma ad Einstein, che si trovava a Berlino. I suoi calcoli erano corretti. La luce segue l'inclinazione dello spazio-tempo. Le cosiddette lenti gravitazionali ne sono una dimostrazione. La luce di lontane galassie subisce complesse deflessioni quando, sul tragitto che percorre verso la Terra, attraversa regioni in cui lo spazio è curvato dalla massa di corpi compatti. L'effetto ottico ricreato è simile a quello di una lente colpita da un fascio di luce. Si può avere sia una deformazione apparente della sorgente che lo sdoppiamento o la visione multipla della sua stessa immagine. La celebre foto raffigura una lente gravitazionale scattata dal telescopio spaziale Hubble. Sembra un viso che sorride, nel quale gli occhi sono prodotti da due ammassi di galassie, mentre i cerchi che definiscono il volto sono noti come anelli di Einstein, causati proprio dall'effetto lente che si verifica quando c'è un allineamento simmetrico tra sorgente, lente gravitazionale ed osservatore. Anche nei momenti più bui l'universo ci sorride.